Siamo con il responsabile, l'ideatore di questo corso per collaboratrici familiari e badanti, soprattutto di origine Moldava. Presidente di una associazione, si presenti? Sono Alessandro Latini, che sono prima di tutto un consulente del lavoro come mia attività principale, poi mi occupo da anni di immigrazione, in questo caso stiamo collaborando con una società di diritto moldavo. Abbiamo ideato un corso particolare, che è quello per le assistenti domiciliari. Ce n'era bisogno, molto bisogno. Assolutamente sì, perché ultimamente sappiamo tutti quanti che purtroppo, per fortuna, siamo una popolazione che invecchia, quindi sempre di più abbiamo bisogno in casa di qualcuno che assiste gli anziani, che assiste noi, che assiste la famiglia nelle attività quotidiane. Disabili anche? Anche disabili, è chiaro che quella parte della disabilità sarà un problema molto più complicato che dovremo affrontare, ma in questa fase ci siamo limitati a un corso, ripeto, sperimentale, perché siamo partiti da un presupposto molto importante, che è quello di fare in modo che le badanti, le colf, non vadano in giro per la città, soprattutto in una città come Roma, che è complicatissima, per fare un'ora di corso, perdere tre ore di lavoro, tornare tardi e perdere molte volte veramente quel poco di libertà che hanno magari durante la giornata. Allora abbiamo pensato di raggiungerle a casa direttamente. Quindi il corso si è basato su dei moduli, le signore devono studiarle durante un certo periodo, hanno un tutor che le assiste telefonicamente e poi viene eseguito un test tramite sms, semplice, banale, ma le signore si sono trovate molto bene perché possono farlo in orario abbastanza libero e quindi tramite il tutor si mettevano d'accordo quando effettuare il test e il test veniva effettuato. È un corso interamente online della durata di? Allora noi abbiamo fatto, essendo sperimentali, abbiamo fatto un corso che è partito i primi di giugno. Sono nove moduli, quindi abbiamo dato più o meno 5-6 settimane, quindi ogni settimana c'erano dei test. Perché attenzione, una cosa importante... Moduli, scusi, lezioni, lezioni vere e proprie. Esatto, lezioni, scusate, noi adesso la parte tecnica, quindi lezioni inteso, c'è la lezione sull'alimentazione, abbiamo fatto una lezione sull'Alzheimer, sulle malattie, quindi abbiamo fatto tutta una serie di moduli che devono essere, abbiamo cercato di essere veramente pratici per le signore. In un corso multidisciplinare? Assolutamente sì. Erano state messe delle soglie per cui le signore dovevano superare un tot di risposte e nel caso in cui le risposte non erano superate, ritornavano indietro, rifacevano la lezione e venivano seguite dal tutor che quindi doveva in qualche maniera consentire di superare questo test prima di andare avanti. Questa è una metodologia che abbiamo pensato proprio perché non ha senso, voglio dire, regalare un attestato soltanto perché ci si iscrive, ma bisogna in qualche maniera studiare ed essere... Aiutarle, perché le avete aiutate in questo senso, cioè se una persona aveva difficoltà, obiettivi, non solo magari nella comprensione del test, oltre che anche nella difficoltà della domanda in sé, voi appunto siete venuti incontro a queste persone per far sì che superassero poi successivamente il test. Assolutamente sì, infatti, ripeto, abbiamo messo a disposizione un tutor, una ragazza di straniera, di nazionalità russa, che è stata molto paziente. Anche perché parlano tutte in russo? Esattamente, diciamo che la maggior parte parlano in russo, quindi si sono, come dire, comprese bene laddove avevano delle difficoltà nella comprensione di alcune parti italiane. Anche qui, devo dire, abbiamo scoperto che le signore parlano italiano, lo parlano anche bene, lo sanno anche leggere. E questa è stata una sorpresa, devo dire. Le difficoltà sono sempre tante. Trovandosi in un paese straniero, essere accolte, essere accettate, si diceva anche prima, non è semplice, al di là della difficoltà di cultura. Devo dire che questa fase, secondo me, in parte è già stata superata e chiaramente la famiglia oggi chiede di più. Chiedono che questa signora sia in grado di poter gestire l'anziano in toto e sia in grado anche di gestire la casa in toto. Quindi gli si chiede veramente tante, tante cose. Quindi ecco l'idea di continuare a far migliorare e crescere la professionalità delle colfe. Dobbiamo completare anche questa preparazione, che magari adesso è ancora tendenzialmente, non dico soltanto teorica, ma ecco migliorare forse la parte pratica di assistenza vera e propria, la manualità, cioè come comportarsi davanti a determinate situazioni di pronto intervento e quindi anche di fronte magari a situazioni inattese devono agire e sapere anche come comportarsi diversamente, si potrebbero causare anche dei danni nella persona assistita. Perché veramente molte volte è banale dirlo, ma in molti casi molte badanti non hanno chiamato mai l'ambulanza perché non sapevano come farlo. Quindi allora dico, di fronte a questo noi dobbiamo essere molto più attenti. È necessario che ci sia questa crescita. È chiaro che questa crescita vuol dire professionalità, vuol dire anche fare attenzione a quelli che saranno i diritti delle colfe e delle badanti. Quindi bisogna anche tenere presente che è il momento di iniziare a ragionare in termini economici anche per le colfe badanti. Purtroppo devo dire che è di questi giorni in una situazione abbastanza incresciosa per cui molte colfe badanti rischiano di non ricevere la disoccupazione in caso di licenziamento per una interpretazione dell'Inps, di cui magari in altre occasioni parleremo. È necessario che queste persone oltretutto siano fortemente considerate parte attiva e integrante di questa società. Le donne moldave sono quelle che più, sono circa 150 mila in Italia, quindi non sono neanche poche e soprattutto la maggior parte, il 90% di loro, fa proprio attività per la casa. Quindi sono veramente per noi il banco di prova del corso. Assolutamente in questa società frenetica in cui non abbiamo tempo neanche di avere un minimo di attenzione, di solidarietà, perché sembra quasi che siamo in preda ad un delirio collettivo di fare, fare. Abbiamo ormai perso di vista quelli che sono i valori fondamentali e queste persone sostituiscono con tanto calore, con tanto affetto, con un sentimento autentico, sostituiscono e a tante mancanze di cui la nostra società è assolutamente colpevole. Non ne possiamo fare a meno. Alessandro Latini, il nome dell'associazione? Anisem è l'associazione a casa Moldava, che è un'associazione tipicamente di donne moldava. Noi siamo un'associazione mista, mentre la casa è un'associazione tipicamente moldava. Volevo ringraziare poi chiaramente l'ambasciatrice e l'ambasciata moldava che ci ha ospitato per questa consegna degli attestati. Grazie di nuovo. Siamo in compagnia di Iulia Margine, una signora che ha appena frequentato il corso per collaboratrici familiari e badanti. È soddisfatta di avere fatto questa scelta? Questo corso che cosa le ha dato rispetto a quelle che erano le sue aspettative e il punto di partenza? Sì, in Italia sono da quasi dieci anni. C'è un percorso diverso da altri naturalmente, però per fortuna io sono incontrata da mia sorella, da mio figlio qui. Prima non ho avuto tanta difficoltà. L'unica difficoltà era la lingua, era capire tutto il modo di vita italiano. Che io dicevo a mio figlio, figlio dimmi per favore, ma come sono italiani? Lo dice mamma, sono le persone come noi, però le piace sincerità. Grazie che mi ha imparato e sei sincero. Mio figlio fa panificio qui a Pitiliano, poi con tempo dopo Pitiliano sono stata a Roma, ho fatto la badante sempre, ore ho fatto. Adesso faccio metà badante, metà assicurazione e alleanza generali. Questo corso mi ha dato molto perché ho fatto tanti corsi, ho fatto corsi di italiano, ho fatto corsi di badante. Invece questo corso ha una differenza, proprio modalità e una novità. È iniziato a metà giugno e finito a metà luglio quasi. Sì, è davvero che questa modalità online è una cosa facile, ti dà possibilità di studiare quando tu vuoi quando è e pure fare il test così da casa sua. Voglio dire che io per l'ultimo test ero proprio in viaggio, in viaggio tra il mio paese e Romania e gli ho detto a tutti stai zitti perché io devo fare un test. E loro hanno fatto così al finito, ma come, ma come? Ho risposto a due domande, non le ho risposto bene. Dice brava, dico grazie a voi. Ecco. Si è riuscita a frequentare, tra virgolette, il corso durante il viaggio, quindi questa è un'opportunità importante. Certamente voi siete tutte signore integrate, abitate ormai da anni. Avete superato anche grammaticalmente magari quelle che sono le problematiche, le eccezioni, perché la lingua italiana ha molte eccezioni, tra l'altro non sono sempre così fruibili da chi viene dall'estero. Voglio dire una cosa molto importante, che questo corso è fatto proprio per l'ex Unione Sovietica, per noi, avevamo un modo di vita, un modo, noi siamo molto precisi, ogni tanto troppo precisi, diciamo. È fatto proprio la nostra modalità di studio, la nostra modalità di essere. E questo è proprio un vantaggio. È stato un corso miraviglioso. Vogliamo ancora che ci sono, diciamo, altri corsi, informatica, lingui, lo vogliamo in questo modo, perché è un modo bellissimo, è un modo comodo, è un modo facile. Venendo qui noi tutti troviamo difficoltà, perché siamo, magari che siamo latini, siamo di culture diverse. Poi c'è ancora altra cosa molto importante. Da noi, diciamo, la mortalità media è 56. Noi non abbiamo questi tanti, tanti anziani. E in questo corso ne hanno insegnato proprio modalità, anche psicologia, come comportarsi con gli anziani, perché loro sono più di difficoltà. avendo una persona in casa estranea e non sapendo... È di contatto ad accettarvi, perché appunto loro hanno abitudini ormai consolidate, quindi non... magari a volte c'è il rifiuto da parte della persona anziana, no? Verso l'estraneo, verso colui che si ritiene diverso, diverso per mentalità, oltre che per cultura, per lingua. così. Sì, è vero. E voglio dire che, a parte che c'è questa paura, questa, diciamo, situazione da tutte le due parti, invece qui in questo corso ne hanno insegnato ad essere pazienti. Essere, però, lo facevano così semplice, così senza moralità, senza di fai questa, fai questa. Proprio una cosa molto... molto a livello alto, diciamo, che ne hanno insegnato ad essere pazienti, a parte tutto, conoscere i malattie di anziani, come comportarsi in questo caso, come comportarsi in altro caso, che possiamo aspettare da un anziano così e così, e tutti questi dettagli, quali sono molto, molto importanti. Può succedere di tutto, può succedere un incidente domestico. L'incidente domestico è forse la situazione più frequente, no? Sono state le punte, allora, igiena di casa, igiena di anziano, alimentazione, quella è una cosa molto importantissima, perché dipende di malattie che ce l'ha anziano, come deve alimentarsi. Poi dipende anche fisicamente, perché ci sono con protesi, ci sono diverse cose che poi... Prendete medici, terapisti, psicologi, infermieri, fate tutto. No, noi non diventiamo infermieri, però siamo aiuto di anziani, perché dobbiamo vedere tutto, dobbiamo osservare tutto, essere corretti, e nello stesso tempo confrontare negazioni di anziani che loro negano, mangiare, prendere le pasticche, tutto questo, e confrontare questo con sorriso, con pazienza. in un corso completo, affrontato in maniera sistematica, molto professionale. Che cosa è è mancato secondo lei, più che mancato come corso, quale altro tipo di corso potrebbe essere utile, al di là di corsi magari tecnici, appunto di insegnamento, di utilizzare magari il computer, che può essere anche utile, sì, nel rapportarsi anche magari, perché no, con una persona anziana, una persona disabile, che utilizza lo strumento del computer proprio per essere più autonomo, anche questo. Ecco, un corso che magari vorrebbe frequentare prossimamente. Sì, vorrei che questi corsi non finiscono, che sempre sono diversi, allora vorrei informatica, inglese, anche italiano di livello alto, perché questo è importante. Voglio dire che in questo corso dato, già, non sono stati tanti, non sono stati difetti, sono stati un po', due o tre domande fatte, diciamo, non si hanno capito bene. Altro tutto è stato preciso, è stato utile, è stato buono. Io sono molto contenta e grazie a tutti coloro hanno partecipato alla composizione di questo corso. Grazie a tutti quello che hanno fatto e grazie a voi tutti. Grazie, grazie Iule, grazie mille!